bluetti charger one come caricare la batteria del motore di prua da 24 o 36 volt in questo video vi mostro con un test proprio pratico fatto a casa mia su come questo bluetti charger one è in grado di caricare anche la batteria del nostro motore di prua quindi una 24 o 36 volt al litio cos'è il charger one è praticamente un inverter che fa alzare la tensione dalla batteria del motore quella proprio del motore per arrivare alla tensione necessaria di ricarica della nostra batteria in questo caso la batteria del motore di prua questo nasce soprattutto per le power station quindi chi ha anche una power station può utilizzarlo tranquillamente per ricaricarla si va a collegare questo sull'ingresso solare della power station questo sempre sulla batteria del motore questo cavo qui e in pratica lui si occupa di trasformare i 12 volt della batteria del motore ai 24 e 36 nel nostro caso o a quello che serve fino a 56 volt per quello che sono le power station perché questa cosa qui è molto interessante per noi perché oltre che dare una tensione molto precisa in uscita con fino a 10 ampere di carica quindi una carica buona quella giusta quella che che funziona bene senza dover sollecitare troppo l'alternatore del nostro motore questo ha anche un'altra funzionalità già dentro quella di capire se la batteria del motore è carica a sufficienza per poter quindi togliere energia da questa batteria dal nostro alternatore per andare a caricare la batteria del motore di prua perché se noi abbiamo la batteria d'avviamento scarica o semplicemente il motore è spento questa cosa non deve funzionare perché sennò noi ovviamente troveremo la batteria del motore di prua carica ma la batteria d'avviamento completamente scarica e non è una cosa che va bene e il test che facciamo oggi riguarda proprio questo io lo collego sulla batteria del motore della mia macchina in questo caso collega una batteria da 36 volt a litio che è quella per il mio motore di prua quando lui è in stand by ovviamente devo settarlo ma vi mostro anche nel video come si fa quando lui è in stand by consuma appena un watt e mezzo quindi un consumo irrisorio che può essere addirittura eliminato anche utilizzando il suo interruttore che è compreso nella confezione come vi ho già detto nel momento in cui metto in moto il motore e la batteria arriva alla tensione di 14 volt 14 e qualcosa automaticamente lui comincia a trasferire energia dalla batteria del motore alla batteria 36 volt con una potenza circa di 500 watt non è un vero e proprio charger quindi diciamo che perfetto al 98 per cento perché dico questo perché in realtà i charger quelli professionali per intendersi vi faccio l'esempio di questo questo è l'orion xs ve lo mostro meglio ancora qui questo è quello che io vado a installare sulle batterie servizi al litio questo fa da charger proprio fino a 50 ampere cioè serve per caricare la batteria dei servizi dalla batteria del motore è un principio simile a questo bluetti solo che questo non carica la batteria 24 36 volt mentre il bluetti si cosa questo in più che gestisce anche le fasi di ricarica quindi a bulk floating cioè una volta raggiunto al 100 per cento della batteria sarebbe bene calare la tensione di questa batteria metterla a riposo che non è più non so 42 volte la tensione di ricarica una volta che la batteria è carica la tensione di riposo sarebbe 38 39 volt questo al bluetti non lo fa cioè lui porta la tensione a 42 volt quando è settato a 42 volt e li rimane però secondo me questo è un falso problema perché questo carica 10 ampere noi non facciamo trasferimenti di solito almeno lunghissimi e soprattutto possiamo decidere noi quando accenderlo e spegnerlo tra l'altro vedremo sull'app c'è anche un'app questa e quindi è tutto controllabile anche dall'app anche lì ho un interruttore di carica e scarica e posso controllare cosa sta facendo ma con solo questo interruttore già risolvo tutto se so che la batteria del motore di prua è carica oppure semplicemente non la voglio caricare lo spengo e rimane in stand by non succede nulla nel momento in cui ho usato il motore elettrico di prua o mi sono dimenticato di caricarlo e sono in pesca e vorrei utilizzarlo ancora e magari devo fare un trasferimento o semplicemente una batteria piccola sul motore di prua non occorre più mettere una batteria da 100 ampere metto uno da 50 perché tanto so che in tutti i trasferimenti farò una ricarica a questo punto questo diventa perfetto anche se la batteria la porto al cento per cento e la lascio ancora 10 minuti un'ora anche al cento per cento non succede assolutamente nulla dopo questa lunghissima premessa iniziamo a vedere esattamente il test come l'ho fatto e i risultati che ho ottenuto che vi anticipo sono ottimi di questo ho già fatto un altro video quindi in descrizione trovate anche il link all'altro video se volete vedere proprio l'unboxing e in più sempre in descrizione trovate il codice sconto per l'acquisto cosa andremo a fare utilizzeremo il charger 1 per andare a caricare la 38.4 che la 36 volt classica dei motori di trolling di prua qui abbiamo tutte le caratteristiche quindi andiamo a leggere che la tensione di carica e 43.2 più o meno 0 6 ma metteremo buona questa 43.2 ovviamente 50 ampere di carica ma questo a noi non interessa perché questo da fuori 10 ampere qui abbiamo il cavo qui avevo il mio test prima qui qui abbiamo un controllo sulla batteria degli ampere e i volti in questo momento a 39.35 qui abbiamo collegato direttamente sulla batteria del motore e già che ci sono potrei collegare anche qui questo strumentino fatto collegato anche questo strumentino qui possiamo vedere il consumo in questo momento 0 10 ampere 1,4 watt questo è il consumo del nostro charger che è montato lì e qui abbiamo le pinze sulla macchina ovviamente è un installazione volante ma per fare qualche test va più che bene qui abbiamo l'interruttore che viene fornito insieme col cavo che è questo qui di ottima qualità del charger qui abbiamo il charger l'ingresso e l'uscita di nuovo il tester batteria sul charger abbiamo un led che ci indica che è perfettamente funzionante e tutto quanto attivo in questo momento non sta caricando la batteria perché non l'abbiamo settato per questa batteria semplicemente quindi andiamo a fare il setting sul charger e dopo vediamo cosa succede la prima cosa da fare è aggiungere il charger sul nostro telefono quindi dispositivi collegati ovviamente qui sono sull'app della bluetti compare tra l'elenco di dispositivi se lo seleziona lui si connette e il charger ci da già tutti i valori del che sta leggendo cioè batteria del motore 12.4 tensione della batteria dei servizi 39 volt l'altra cosa da fare è andare a settare il nostro charger per la batteria che dobbiamo caricare quindi bisogna leggere le istruzioni bisogna disconnettere la batteria selezionare la tensione di carica ovviamente c'è un disclaimer che mi dice attenzione a non fare cavolate metto il voltaggio che voglio che arrivi massimo in uscita in questo caso andrò a mettere 43 volt virgola 2 e dopo di che gli dirò che sono a posto che può fare quello che deve fare loro dicono di aspettare circa 30 secondi prima di connettere il dispositivo e questo è tutto ho già settato il nostro bluetti charger per la ricarica della batteria 36 volt che appunto ha una tensione di ricarica di 43 adesso è tutto pronto lui legge i 12.4 38.9 e vediamo scritto sotto la tensione di ricarica 43.0 bene a questo punto possiamo accendere il motore dell'auto e vedere cosa succede fatto abbiamo acceso l'auto adesso in questo momento l'auto sta buttando fuori 34 ampere 13,9 volt potenza 430 watt abbiamo il cavo interruttore acceso qui c'è il bluetti che sta funzionando e sta caricando la batteria a 10,35 ampere siamo a 40.5 volt 418 watt che entrano in batteria adesso dovremmo al limite aspettare che la batteria sia completamente carica ma non è una cosa necessaria quando la batteria raggiunge la tensione di carica che andiamo a trovare qui sopra 43 volt automaticamente il charger si stacca facciamo ancora una prova adesso andiamo a spegnere il motore dell'auto e vediamo cosa succede facciamo ancora un controllo qui sta sempre caricando 480 watt ora spegniamo il motore e vediamo un po' andiamo prima qui sta ancora scaricando questo è normale adesso lui rileverà che la tensione della batteria è andata giù perché stiamo tirando fuori comunque 33 eccolo qua ha staccato la batteria è tornata a 12.6 senza carico andiamo a controllare anche qui 0 la batteria adesso a 40 volt perfetto il charger ha staccato l'alimentazione ha fatto tutto da solo quando abbiamo finito di usarlo durante la giornata sia camper o sia barca andremo a spegnere l'interruttore generale per sicurezza anche perché lui consuma qualche watt abbiamo visto quindi meglio spegnerlo